A Ragusa c'è grande attesa per lo sblocco delle assunzioni all'ASP atteso da 5 anni. Per il coordinatore provinciale CISL Ragusa Siracusa Emanuele Di Stefano, la procedura di reclutamento comporterà nell'immediato le prime assunzioni con contratto a tempo indeterminato per le aree di emergenza-urgenza, pronto soccorso e terapia intensiva, oltre che successivamente di medici, infermieri, tecnici, ostetriche e fisioterapista, mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali. Per quanto riguarda i posti vacanti di nuova istituzione dovranno essere coperti mediante le procedure di stabilizzazione e di mobilità dall'esterno. Ovviamente, dice il sindacalista, ci occuperemo delle vicende degli autisti, degli operatori tecnici, dei cuochi e degli ausiliari che dopo anni non possono ancora contare su un contratto a tempo indeterminato, ma part-time lavoreremo per fare in modo che possa diventare full-time. In merito alle procedure di stabilizzazione continua di Stefano, la nostra organizzazione sindacale vigilerà affinché si proceda applicando la cosiddetta riforma Madia in quanto si attende a breve l'emanazione delle linee guida da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questa prevede la stabilizzazione del personale che al 31 dicembre 2017 abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che precede all'assunzione a meno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni. Pretenderemo, sostiene ancora Di Stefano, che siano effettuate le assunzioni anche degli ausiliari e degli operatori sociosanitari, sia per dare una migliore assistenza ai pazienti che per dare al personale interno la qualifica di OSS attesa da ormai tantissimi anni. Una cosa è certa, dice ancora Di Stefano, e cioè che la Cisla Siracusa Siracusa non si presta a fare da eco ai programmi di una politica che ha saputo ben programmare questa grossa ondata di assunzione a ridosso delle prossime elezioni regionali. La verità è che per il personale che giornalmente svolge la propria attività lavorativa non cambierà nulla, può soltanto cambiare collega con cui si lavora, ma non si avrà, neanche questa volta, la possibilità di avere un collega in più, il tutto a discapito dell'assistenza al malato e della salute dell'operatore stesso. Sicuramente troveranno in grande serenità le famiglie di quei precari di lungo corso che finalmente raggiungeranno il posto di ruolo. Grazie a tutti.